Ciò che mi sono proposto di fare con questo volume, Il Tempo della Verità, edito da Mimesis, è salvare l'idea di temporalità dalla sua riconduzione al concetto di storia. La modernità, la filosofia moderna in Occidente, in molti modi, in modi diversi tra loro, alla fine ha sempre pensato che l'esperienza del tempo sia ciò che ci costringe a fare i conti con la nostra vita, con le cose tutte, riconducendole all'orizzonte della storia. Hegel, in questo senso, è stato il modo più alto, più straordinario di riduzione del tempo a storia. In questo libro io tento di sottrarre il tempo a questa riduzione per consentirci un'esperienza della temporalità che non sia semplice memoria di un già stato, ma che sia possibilità di vivere nel presente quel futuro in relazione al quale solamente la nostra vita è quello che è. Grazie a tutti!